ciao e ben trovati sul mio canale sono qui per realizzare assieme con voi questi bracciali realizzati con cipollote solo miucchi allora prima di dimostrare il materiale vorrei spiegarvi alcune cose come farle a questa bracciale allora questa bracciale verrà realizzata a mano a modulini singolari e poi vanno sempre collegata ogni modulo a collegata con l'altra allora ogni modulo consiglio utilizzare il filo inizio filo il corto filo non serve lunga lunga filo serve solo la finale consiglio anche utilizzare filo nylon comunque iniziano a mostrare i materiali che mostro la chiusura servirà la chiusura servirà anelli il cipollotto da 4 mm poi servirà tutti e tre diverse dimensioni della miucchi roccales quindi 8 0 della 11 0 e della 15 0 bene inizieremo il filo come detto filo e consiglio utilizzare e utilizzando ago da 10 mm filo vecchio il consiglio di utilizzare un filo trasparente a nylon e come voglio ripetere utilizzate filo corto più o meno 500 metri per ogni modulo ma ora iniziamo con il tutorial ok iniziamo con il tutorial come vedete infilata sul mio filo partendo con la cipollotto poi inserita un brocca della 11 quindi cipollotto poi dopo un 8 0 e inserito per due volte come vedete quindi infilate la seguente per linee e poi portate fino giù del vostro filo quindi iniziamo ripassare dietro nella per linee quindi rientrato dietro anche della per linee quindi ora dobbiamo chiudere io come chiudo adesso faccio vedere faccio un nodo il primo nodo il primo nodo con tre giri due e facciamola verso giro e inizio a tirare il filo quindi tiro tiro il filo ora faccio un altro secondo nodo sempre con tre giri e due e questo è il secondo nodo quindi tiro bene il filo bene ora abbiamo creato il nodo andremo a nascondere il nodino aspettate un attimo che controllo quindi vado a coprire il nodo inserendo dentro la cipollotto quindi poi tiro il filo finché il nostro nodo non è entrata dentro la nostro cipollotto una volta che avete nascosto la nodo potete tagliare il filo finale da lavorazione bene ora da cipollotto dobbiamo rientrare nella 11.0 nel cipollotto e nella 8.0 quindi questo appunto uscendo da 8.0 prendo un cipollotto su ago e ando ad inserire al centro della lavorazione quindi vado inserirmi già nell'altra parte della 8.0 ora rientro dentro al cipollotto e anche nell'altra parte della 8.0 così abbiamo applicato al centro un altro cipollotto ora dobbiamo inserire su ago 5 rocca 11.0 e andremo ad inserire nella 11.0 quindi praticamente applichiamo un archetto soprano su cipollotti per 4 volte quindi iniziamo ad inserire di nuovo 5 rocca su ago e questo appunto da 11 vado ad andare insieme nella 8.0 quindi continuiamo ad andare ad inserire il nostro 5 rocca su ago e facciamo ancora il nostro archetto da 8 dalla 11 quindi faremo l'ultimo archetto con la nostra 11.0 quindi infilate di nuovo il vostro 5 rocca 11.0 e andate ad inserire nella 8.0 bene abbiamo applicato la nostra 5 rocca sopra la cipollotto allora uscendo da 8.0 andate e risalite dalla prima 5 rocca senza inserire niente su ago solo dovete attraversare nella prima 5 della rocca ok uscendo dalla 5 rocca andate ad inserire ora soltanto un rocca 11.0 su vostro ago perché questo adesso andremo ad inserire nelle altre 5 rocca successive quindi attraversiamo nelle rocca nella 5 rocca dopo che è attraversata nella 5 rocca inseriamo di nuovo un rocca della 11 e facciamo la stessa cosa di inseriamo attraversando nella 5 rocca 11.0 quindi prendo nuovamente un rocca quindi prendo nuovamente un rocca e faccio questa come fatta con l'altro e due inserendo l'ultima quindi inserendo l'ultima rocca e questo punto vedete sa ago anche nella prima rocca che avete inserito tra 5 ok ora me lo giro la lavorazione perché dobbiamo lavorare adesso qua dietro iniziamo ad inserire su ago 5 rocca 15.0 quindi inseriamo la 5 rocca 15.0 e quindi da qui andiamo ad inserire quella rocca quella singola rocca che abbiamo inserita tra 5 rocca 11.0 quindi inserisco di nuovo la 5 rocca 15.0 e vado ad inserirmi nella rocca che abbiamo inserito tra 5 rocca e posto dietro e questo dovete fare altre due volte quindi andate ad inserire altre due volte la vostra 5 rocca 15.0 ok come vedete ho inserito la mia 5 rocca 15.0 per 4 volte la mia 5 rocca 15.0 uscendo dalla 11 ora ando ad inserirmi nella prima 3 della 15.0 quindi inserisco nella prima 3 della 15.0 uscendo dalla terza della 15.0 andremo ad inserire un 15.0 su ago e andremo ad inserirsi nella terza rocca della 15.0 successiva quindi inserisco normalmente un 15.0 e andremo ad inserirmi nella terza rocca della 15.0 successiva quindi prendo un 15.0 e continuo ad andare ad inserirmi nella terza rocca della 15.0 inserisco l'ultima inserendo l'ultima e ora inizio a tirare il mio filo ora invece dovete rientrare nella prima 15.0 che avete inserito appena ecco quindi questo punto voi dovete ripassare nella 4 rocca che avete inserito al centrale ok ho ripassato nella 4 rocca che si trova al centro quindi trovando uscire dalla direzione dove si trova la vostra 8.0 quindi dovete salire ora da la qui in 2 rocca della 15 e vedete vedete sono dimostro ora che sto salendo nella direzione in cui si trova la nostra 8.0 quindi dalla 15.0 dovete andare uno e inserirsi questo sarà il nostro modulini con cappettino quindi inseriamo soltanto questa 2 rocca uscendo dal 2 rocca dovete inserire ora 5 rocca 11.0 quindi inseriamo 5 rocca della 11.0 quindi andremo ad inserire in questa rocca in questa rocca dovete trovare 1 2 3 in questa rocca quindi poi attraverso nella centro per poi uscire cercando alla insieme ma non me la permette scusate ok quindi attraversata anche nella 2 ora io ripasso nella 5 rocca 11.0 ripassiamo nella 5 rocca 11.0 ok e poi iniziate a ripassare qui dentro sempre ma questa volta uscite solo in 2 rocca dentro qua ahia appunto l'ago perchè dobbiamo uscire dietro con l'ago quindi cercando porta ecco qua vedete sto scendo da dietro con l'ago e il tiro mio filocchi quindi portata dietro ora girate la lavorazione perchè da qui dobbiamo ripassare nelle 15.0 quindi ripassiamo nella 15.0 faccio vedere come vedete entrando nella prima 3 quindi da qui invece questo angolare porto su in questa 2 ora invece da qui vado inserirmi 1 2 3 e risargo in questa 2 quindi vado avanti per ripassare 1 2 3 ora risargo in questa 2 quindi praticamente ripassiamo in tutti i quattro angolari della 15.0 ecco vedete ora risalendo su dove siamo partito nell'altra parte ok questo appunto voi dovete chiudere proprio qui la vostra lavorazione quindi passo sotto sotto il filo con l'ago passiamo sotto quindi blocco faccio due giri della sopra cerchetto 2 e passo un'altra volta nella cerchetto quella che si trova in basso e tiro bene bene ma bene il filo che questa volta non è uscito anche rotto vabbè e tirate bene il filo dopo che avete tirato il filo andiamo a nascondere il nostro nodino nella 11.0 quindi nascondiamo il nodo dentro la 11.0 una volta che avete nascosto il vostro nodo che non si vede come vedete potete tagliare il filo e tagliamo il filo e come vedete abbiamo realizzata per i bracciali i primi modulo ora cominciate la seconda modulo senza archetto quindi iniziate a cominciare con la secondo modulino ok ho terminando la mia secondo modulo quindi come vedete sto salendo di nuovo la versione della 8.0 come con la prima modulo come abbiamo fatto nella prima modulino ora farò vedere il collegamento ok ora saliamo in tre rocca nella 11.0 bene poi già tavola e prendiamo la nostra prima modulino ora le 8.0 devono trovarsi in direzione giusta al centro quindi uscendo da questa lato vado inserirmi in questa lato quindi inserisco 1 2 tiro il filo ma vado inserimmo ancora in altre 3 1 2 e 3 ora possiamo prendere il filo inizio a tirare il filo vedete una lato già collegato ora colleghiamo anche nell'altra lato ma questa volta salite solo in 2 della 11 perché da dal 2 a 11 dovete salire e inserire nella vostra 8.0 adesso che siete saliti nella 8.0 dovete inserire un cipollotto vostro ago e andare uscendo da questo lato della 8.0 ando inserirmi nell'altro lato della 8.0 scusate e tiro il mio filo ora rientriamo nel cipollotto e anche nell'altra parte della 8.0 e tiro ora che abbiamo inserito al centro la cipollotto dovete scendere con l'ago in 2 rocca in 2 rocca 11.0 in 2 rocca 11.0 e tiro il filo ora giro la lavorazione perché perché adesso iniziamo a ripassare la collegamento iniziamo a ripassare nella collegamento quindi ripassiamo nella collegamento quindi 1 2 3 tiro il filo ora inserisco anche nell'altra 2 ora vado nell'altra parte nell'altra parte invece salite solo in 3 rocca una volta che siete saliti in questa 11.0 nella seconda modulini iniziate nuovamente ripassare la lavorazione dietro nella 15.0 e poi una volta che siete rientrati qui potete chiudere ecco collegata anche la secondo modulo quindi chiuso però come vedete io sono anticipata quindi ho già fatto un po' di modulini per andare avanti allora per un modulo lo spiego che servirà per il vostro una lunghezza del bracciale 13 13 modulini 13 modulini io lo vado adesso farmi altra parte la finale così poi dimostro la lavorazione laterale allora dico anche che nell'ultimo modulo quando arrivate alla finale a tredicesimo dovete utilizzare lungo filo lungo perché proprio lì poi ricominciamo a lavorare la lavorazione laterale senza chiudere l'ultimo modulino e poi dovete anche poi ripassarla quindi consiglio di utilizzare un filo più lungo ora faccio anche io la mia ultima modulini e poi continuo a dimostrare un'altra volta la collegamento e poi la lavorazione laterale ok sto per terminare la mia ultima modulo come vedete portata su di nuovo nella 15.0 direzione nella 8.0 ora faccio vedere di nuovo la collegamento vado a inserirmi in 3 rocca della 11.0 quindi prendo le mie moduli che è già pronte e vado a collegare anche questa mia modulo quindi vado a inserirmi uno due dobbiamo inserirsi in 5 rocca della 11.0 in 202 vado a inserirmi un altro 3 e per il mio filo e per il mio filo eccolo ora vado anche nell'altra parte ma nell'altra parte inseriamo solo in due rocca nell'altra parte inseriamo solo in due rocca ok quindi salgo nella 8.0 e tiro il mio filo quindi uscendo da 8.0 inseriamo un cipollotto su ago e andremo ad inserire nell'altra parte nella 8.0 ecco ora invece riempiamo nel cipollotto intanto questo già avrete fatto sicuramente con la lunghezza del bracciale e quindi rientro nell'8.0 e ora come prima scendiamo nel due rocca la 11.0 ok e quindi cominciate a ripassare anche qui dietro a questa lavorazione ok ripassata qui e poi dopo attraversata con l'ago in dritta in questa rocca per poi portare uscire vicino a questa 11.0 ora ringra ingradiamo 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 di nuovo quindi ora faremo di nuovo la cappettino quindi cosa faccio salgo solo in due rocca salendo da due rocca salendo da due rocca andrete inserire 5 rocca 11.0 inseriamo i 5 rocca 11.0 e andremo inserire in questa rocca perché deve uscire 1 2 3 quindi vado inserimi in questa rocca quindi rientro in questa 2 per poter ripassare nella cappettino quindi rientriamo in questa 2 è diventata in quella 2 rocca ora attraversiamo nella 5 rocca 11.0 attraversiamo la 5 rocca e quindi come nella prima modulo dovete inserire in questa e nella seconda per uscire con l'ago da dietro da dietro ok ora rigiro la lavorazione perché è uscito da dietro ora da qui invece cosa dovete fare iniziate andare 1 2 iniziate ripassare in questa 15.0 quindi entro anche questa 2 ecco ecco ora siamo a buon punto per iniziare a lavorare laterale quindi entro in questa 11.0 e quindi a inizio a attraversare 1 2 e 3 rocca vedete entrando anche nell'altra 3 rocca e quindi prima 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 allora allora come vedete qui abbiamo 2 rocca uno che trova sopra uno che trova sotto quindi il primo passaggio faremo nella in alto della rocca che dovete passare nell'alto della rocca cioè della colorazione del bracciale quindi tiro filo e rientro anche in questa 3 rocca di nuovo 1 2 e 3 rocca ecco ecco scusate che ecco 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 ok, infilo 1,2, prima 2 e tiro il mio filo, quindi entro anche nella terza e quindi di nuovo rientro in quella rocca in alto e quindi da qui risaliamo inserirsi nella 3 rocca di nuovo della 3 11 0 e vedete come va avanti così, prendetevi sotto 0 e andate ad inserire di nuovo 1,2 e 3 della rocca 11 0 e quindi di nuovo saliamo nella rocca che si trova in alto e quindi ripasso di nuovo nella 3 rocca 11 0 1,2, tiro il filo, entro anche nella terza e quindi inserisco di nuovo la mia 8.0 ma questo lato facciamo insieme poi dopo contivate da solo 1,2 e 3 ecco dovete fare attenzione con il filo ogni tanto castra e 3 quindi vado inserimi di nuovo a quella di sopra e riscendiamo in 3 1,2 e 3 quindi prendo mio 8.0 e risalgo sopra e riscendo in 3 di nuovo ok questa volta inserendo la ultima inserendo la ultima 8.0 1,2 e 3 ok risalgo nella 3 rocca 1,2 e 3 ora invece prendo anche questa della 4 perché da qui dobbiamo attraversare anche nella prima cappettino per portare nell'altra parte quindi andiamo collegare bene la cappettino con le rocca 1,2 e 3 vedete eccolo qua quindi attraversate anche nell'altra parte lo porto fino qui dove voi dovete continuare inserire la vostra 8.0 anche l'altra parte vedete faccio il passaggio da alto e quindi riportiamo nella prima 3 della rocca ok questa va avanti così anche questa lato quindi andate e completate anche questa lato inserire la vostra 8.0 ok completate anche l'altra lato io adesso non ripasso perché tanto devo rifarla possiamo abbracciare per la lunghezza però come ho detto per ripassare un'altra volta questa volta voi non passate qui ma passerate qui in questa rocca che si trova vicino al vostro 15.0 una volta che avete ripassato il vostro braccialetto è terminato spero che tutto da ti abbia piaciuto e realizzate tante e tante colorazioni perché veramente sono bene belle rigide e carine sottili come vedete è veramente belle io vi saluto questa spero di riuscirci tornare con poi con una nuova tutorial per adesso vi saluto a tutti e continuate a seguire e lasciare il vostro mi piace sotto questo video anche vi saluto ciao ciao